Buonasera benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense mercoledì 2 giugno festa della Repubblica la quale sarà dedicato gran parte del nostro tv giornale e poi naturalmente l'aggiornamento per quanto riguarda i dati della pandemia da Covid-19 dati davvero confortanti con questo trend in calo appena due i nuovi casi di positività nessun ricovero nessun decesso calo anche dei ricoveri appunto nelle terapie intensive mentre continua la campagna vaccinale con un aumento quindi del numero dei ferraresi che sono immunizzati però dicevamo oggi il 2 giugno e la festa è dedicata alla Repubblica e 75 anni della Repubblica Italiana quindi anche a Ferrara si è celebrato questo momento questa mattina la tradizionale cerimonia con la deposizione della corona dall'oro del prefetto della provincia di Ferrara al monumento della torre della vittoria in piazza Trento Trieste insieme all'assessore Marco Gulinelli rappresentanza dell'amministrazione comunale di Ferrara e con la massima autorità militare della provincia il comandante qua di Poggio Renatico una celebrazione che è avvenuta in presenza come di consueto delle autorità e civili e militari anche religiose di una rappresentanza delle associazioni combattentistiche ed arma nel pieno rispetto delle misure anti covid 19. Questa mattina già alle 19 alle 9 scusate proprio c'è stato l'imbandieramento con il tricolore della facciata di Palazzo Giulio d'Este la sede della prefettura di Ferrara a cura dei vigili del fuoco poco dopo lo scoprimento in via fossato dei buoi della lapide dedicata alla maestra Alda Costa però sentiamo il prefetto di Ferrara Michele Campanaro significato di una ripartenza come 75 anni fa dopo anni di guerra il nostro paese si è rialzato ci troviamo anche oggi dopo un lunghissimo periodo di difficoltà non soltanto sanitaria ma anche sociale ed economica nella condizione di dover ricominciare lo ha detto anche il capo dello stato nel messaggio ai prefetti che sto per legge adesso in occasione della consegna delle onorificenze al merito della repubblica onorificenze che quest'anno la presidenza della repubblica ha voluto dedicare esattamente all'impegno che c'è stato in questo lunghissimo periodo da parte di operatori nel mondo della sanità dei sanitari dei volontari delle forze di polizia il senso di questa cerimonia di questa giornata è esattamente questo della rinascita di un paese che è unito e che sa perfettamente che si esce da un momento di difficoltà soltanto tutti insieme ripercorre le vicende che precedono e seguono le due date del 1946 2 3 giugno in cui il voto delle italiane e degli italiani scelsero di dare al paese la forma del repubblica il messaggio con cui il prefetto di ferrara ha salutato e ha reso omaggio al 75esimo anniversario di vita della repubblica italiana è un omaggio per niente retorico fatto di avvenimenti storici scelte politiche impegno dei militanti dei partiti e dei membri eletti dell'assemblea costituente che il primo dicembre del 1948 diedero al paese la sua prima costituzione democratica repubblicana sentiamo c'è il ricordo di un'italia devastata dalla guerra lacerata dalla militante ideologica dove fame misere sofferenze avevano messo in ginocchio l'intera popolazione nel messaggio inviato ai ferraresi dal prefetto di ferrara dottor michele campanaro per salutare e rendere omaggio oggi al 75esimo anniversario di vita della repubblica italiana il 2 il 3 giugno del 1946 nel referendum istituzionale con 12 milioni e 718.641 voti gli elettori uomini e donne queste per la prima volta al voto scelsero la repubblica decretando così l'esilio della famiglia Savoia scrive il prefetto che sottolinea come gli italiani abbiano singlato allora un accordo di convivenza civile che ha trovato nella costituzione repubblicana del primo gennaio del 1948 un patto ancora più forte all'insegna dei valori di una democrazia che si riconobbe allora nei valori dell'unità della libertà del bisogno di un grande rinnovamento come scrisse italo calvino citato dal prefetto nella presentazione del suo primo romanzo ispirato proprio la resistenza il sentiero dei nidi di ragno e che oggi si riconosce in uno stato che per dirsi democratico deve sapere garantire diritti e doveri a tutti come ci insegna la nostra carta costituzionale che affida dice il prefetto la convivenza democratica del paese all'eguaglianza alla pace al pluralismo delle idee al diritto all'istruzione alla solidarietà sociale alla salubrità dell'ambiente alla dignità del lavoro questo 2 giugno deve essere non un semplice giorno di festa ma un momento di riflessione per accrescere in noi la consapevolezza di un nuovo inizio il senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero e anche la sfida odierna degli italiani scrive il prefetto provati da un anno e mezzo di pandemia dalla sofferenza della malattia dalla morte delle persone care dalla fatica di chi ha fatto tutto dalla fatica di chi ha fatto di tutto per ragionare il peso di una situazione inedita che non ha mancato di sconvolgere tutte le relazioni fra i cittadini in ogni campo della vita privata e pubblica dalla politica l'economia la cultura la scuola alla vita delle famiglie nell'ideale collegamento fra l'italia di 75 anni fa e l'italia di oggi il prefetto conclude il suo messaggio dichiarandosi orgoglioso di essere il prefetto di una provincia le cui cittadine e cittadini si caratterizzano per la fiducia e la determinazione con cui da sempre sanno affrontare le difficoltà sono queste doti scrive michele campanaro che consentiranno i ferraresi insieme a tutti gli italiani di vincere anche la sfida odierna della ripresa e della resilienza non solo ferraresi ma anche turisti stamattina in città che hanno seguito le celebrazioni del 2 giugno abbiamo sentito alcuni pareri sul significato di questa festa per me è una cosa giusta perché hanno dato la vita per noi per lasciarci liberi è una cosa giusta io io sono contenta che si faccia sono istriana perciò da pola perciò ancora di più sentiamo la vicinanza e di quando si è unita l'italia a tutti poi marito carabiniere il figlio carabiniere si sente proprio l'amor di patria coinvolgere più i giovani perché i giovani sono il futuro dell'italia e perciò bisogna inculcare in un certo qual modo a partecipare per me si rischia proprio di dimenticare perché a parer mio poi dopo rimane così non viene insegnato a scuola secondo me ma a me l'hanno insegnato queste cose qui anche tutte queste anche l'olocausto di non dimenticare io i ragazzini da adesso ho fatto questa domanda loro dell'olocausto non sanno niente non sanno neanche cosa sia perché perché probabilmente non gli è stato insegnato a scuola comunque a me a scuola l'hanno spiegato ci hanno insegnato queste cose anche dell'olocausto però come ha detto lei ho chiesto anche dei ragazzini un po un po più piccolo di me io quasi 23 anni anche solo a quelli di 15 16 anni non sono proprio cosa sia ed è un peccato perché comunque sono cose importanti perderanno un pochino sì qualcosa perché è diventato un mondo di menefreghismo per prima un bilancio più ombre molto più ombre che quelli che guidano siano più onesti più che altro qualche ombre c'è stata nel passato sicuramente però è stato un cammino necessario non poteva non essere così il 2 giugno il suggello finale di dopo la naturalmente la seconda guerra mondiale siamo soprattutto una nazione ma siamo soprattutto una nazione europea quindi non poteva non andare così è il corso della storia Fieri di essere alpini e fieri che il generale figliuolo il commissario straordinario per l'emergenza covid 19 sia uno di loro alle celebrazioni del 2 giugno come ogni anno anche la presenza delle penne nere di ferrara è una realtà presente in tutta la provincia di ferrara dai confini bolognesi sino al mare per portare alti i valori degli alpini anche nel territorio estense le penne nere ferraresi non mancano mai all'appuntamento del 2 giugno è una festa importantissima cioè per noi è una è la radice della nostra repubblica della nuova italia che sorta dal disastro della guerra quindi non possiamo mancare assolutamente fuori dal mio balcone ha tirato fuori la bandiera quindi fieri di essere alpini e fieri che il generale francesco paolo figliuolo il commissario straordinario per l'emergenza covid 19 sia uno di loro siamo orgogliosi e onorati che ci sia un generale degli alpini che stia guidando come commissario tutto tutto l'organizzazione anti covid mi sembra ci sembra che i risultati stiano venendo fuori quindi a maggior ragione siamo molto molto felici insomma per tutti gli italiani la divisa per l'alpino è una seconda pelle quindi a noi fa molto piacere che l'abbia addosso gli alpini sono sempre dalla parte della popolazione ad esempio qui potete vedere che abbiamo dei nostri della protezione civile siamo sempre dalla parte della popolazione e quindi la divisa è solamente un segno di appartenenza non è certo un segno di di militare dal piano scuola d'estate con 6.000 scuole italiane su 8.000 che hanno risposto per i progetti estivi e agli esami di maturità fino alla ripartenza a settembre grazie alle vaccinazioni a Ferrara in occasione del 2 giugno l'avete visto insomma anche in diverse immagini c'era anche il ministro patrizio bianchi per la prima volta in veste ufficiale nella sua città da ministro dell'istruzione. Noi abbiamo fatto un anno difficile però abbiamo come avete visto riportato i bambini fin da subito a scuola abbiamo scelto di portare l'infanzia la scuola primaria il primo anno di scuola superiore fin dall'inizio abbiamo esteso poi fino alla terza superiore e poi abbiamo nell'ambito dei vincoli dati solo non dalla scuola ma anche dai trasporti riportato anche gli altri continuiamo con l'estate c'è un programma di scuola d'estate molto ricco abbiamo messo 510 milioni e abbiamo avuto la grande la grande gioia di vedere che tutte le scuole d'italia hanno partecipato abbiamo avuto circa 6.000 proposte di progetti sui fondi europei e altri 3.500 sui fondi per la povertà educativa soprattutto da quelle parti del paese che erano oggettivamente state segnate di più non solo dal pandemia ma anche dalla difficoltà precedenti noi abbiamo delle premesse non delle promesse abbiamo delle premesse per una ripresa della scuola in continuità con l'estate una premessa che ci dice questo non solo si riportano i ragazzi a scuola ma si riportano i ragazzi a scuola avendo imparato cioè fatto proprio imparare vuol dire apprendere e fare proprio quello che è successo in questo periodo quindi anche un uso intelligente di tutti gli strumenti nella possibilità di usare gli strumenti per unire di più il paese io dico sempre che sarebbe bellissimo che una scuola di ferrari e una scuola della sicilia fossero in contatto continuo usando anche tutti gli strumenti quindi abbiamo premesse su cui stiamo lavorando molto e quando dico stiamo lavorando molto vuol dire c'è un un corpo insegnanti che ormai rappresenta centinaia centinaia di migliaia di persone che stanno lavorando per questo motivo sarà una maturità in cui i ragazzi potranno esprimere con un elaborato che hanno concordato fin da marzo con i loro insegnanti un elaborato su quello che è stato il loro percorso di studi di cinque anni io sono stato a Genova ho parlato a lungo con i ragazzi che stanno facendo la maturità e ho trovato ragazzi che finalmente hanno colto il senso dell'esame l'esame non è un test è un momento di sintesi di un percorso lungo un percorso di vita e questo sarà la possibilità di fare un vaccino anche ai ragazzi di 12 anni apre la possibilità non soltanto di sentire tutti più sicuri ma anche più uniti e quindi credo che questo sia il grande segno di questo momento vicepresidente della regione miglia romagna ellie schlein è certamente il personaggio più nuovo originale espresso in questi anni dall'area della sinistra e del centro sinistra in italia in concomitanza con la festa della repubblica ellie schlein intervistata da dagli abighinati racconta il senso delle politiche regionali di questo difficile anno e mezzo di pandemia qui racconta la visita di ieri del presidente mario draghi al tecnopolo di bologna è certamente il personaggio più nuovo originale della politica italiana giovane coraggiosa quanto basta per tentare in prima persona di rinnovare il metodo di aggregare alleati consensi nell'area del centro sinistra ellie schlein ha ottenuto una vera valanga di consensi il 26 gennaio 2020 alle elezioni regionali delle miglia romagna dove si è schierata con la sua lista civica emilia romagna coraggiosa al sostegno di stefano bonaccini nella lunga intervista rilasciata il primo giugno delle stesse come vice presidente della giunta regionale ellie schlein entra nel vivo degli obiettivi delle politiche regionali a partire dal patto per il lavoro e per il clima siglato in regione nel dicembre scorso un accordo sottoscritto da 55 soggetti della vita pubblica dell'economia e della società regionale per avviare una ripartenza collettiva e concordata che non lascia indietro a nessun cittadino e che mette insieme dice schlein la lotta alle disuguaglianze l'impegno per i diritti e un nuovo approccio alle risorse della natura e dell'ambiente tutti insieme dunque per questa difficile ripartenza dichiara ellie schlein che qui ci spiega le ragioni che hanno indotto la giunta di stefano bonaccini a scegliere il tecnopolo di bologna come prima meta della visita ieri in regione del presidente del consiglio mario brani da dove riparte da dove sei parte oggi come sei parte in particolare l'emilia romagna ma diciamo questo discorso vale un po' per tutto il paese questa tragica vicenda che ha colpito così duramente la nostra regione sia dal punto di vista sanitario subitissimo ma anche immediatamente da un punto di vista come posso dire economico e sociale perché la pandemia anche per le misure restrittive che si sono rese necessarie ha immediatamente investito duramente il lavoro l'impresa le famiglie soprattutto le persone più fragili perché non dimentichiamo che questa non è una pandemia democratica nel senso che è vero che purtroppo tutte e tutti si potevano e si sono anche ammalati senza guardare in faccia al portafoglio di nessuno ma sicuramente le misure restrittive messe in campo hanno avuto un esito e un impatto diverso su una popolazione che aveva già un alto livello di diseguaglianze sociali economiche territoriali anche di genere e generazionali quindi da dove ripartiamo beh ripartiamo da un'occasione di tracciare degli obiettivi strategici come abbiamo fatto siglando il patto per il lavoro e per il clima nel dicembre del 2020 con tutto il sistema regionale se c'è una cosa che mi ha insegnato questa regione di cui sono una figlia adottiva molto orgogliosa è che nei momenti di maggiore difficoltà della sua storia ha saputo rialzarsi quando chi era anche un po' più veloce aveva sempre l'attenzione di tendere una mano a chi invece faceva un po' più fatica quindi insomma sono giorni è arrivata una visita importante anche del presidente del consiglio draghi siamo andati in visita anzitutto al tecnopolo di bologna perché questa scelta perché il tecnopolo racchiude in questo momento ospiterà il centro meteo europeo ospiterà il super computer di calcolo che è uno dei più potenti al mondo il computer leonardo e una serie di altri enti di ricerca di rilievo nazionale internazionale regionale ecco perché lì perché mi sembra che quel luogo e ci sembra con il presidente vonaccini che quel luogo rappresenti esattamente diciamo l'interconnessione tra le tre sfide cruciali su cui investire per ripartire che sono la trasformazione digitale il tema dei big data e di come ci aiuteranno a conoscere meglio i bisogni delle nostre comunità il tema della transizione ecologica irrimandabile per affrontare l'emergenza climatica in corso e il tema della coesione inclusione sociale quindi del contrasto e divari ecco c'è sembrato un luogo simbolo in cui accompagnare il presidente draghi per far vedere quanto questa regione sia pronta ad abbracciare anche grazie ai nuovi finanziamenti europei del next generation eu una nuova strada e l'intervista integrale alla vicepresidente della regione emilia romagna andrà in onda venerdì 4 giugno sulla nostra mittente alle ore 22 20 torniamo a parlare ancora del 2 giugno ritorniamo davanti alla torre della vittoria ferrara perché dicevamo diverse cariche politiche cittadine sentiamo alcuni di loro a partire dalla senatrice laura boldrini che ricorda anche il ruolo delle donne direi questa giornata è veramente importante perché si lega in maniera indissolubile a quello che sta succedendo con il covid 75 anni fa ci fu una scelta importante quella della repubblica e devo dire qui anche grazie al voto delle donne perché fu importantissimo bisogna che noi lo ricordiamo ma mi sembra davvero di rivivere come una rinascita questo questa giornata perché pian pianino stiamo uscendo dal covid e quindi pian pianino stiamo riassaporando quella libertà che tanto c'è mancata in questi due anni quindi davvero una giornata di rinascita in ricordo di una giornata particolarissima e in particolare grazie anche alle donne che ebbero la possibilità di votare quel 2 giugno del 1946 è un 2 giugno fondamentale importante perché oltre a segnare un momento storico di grande rilievo per la nostra repubblica anzi centrale per la nostra repubblica è anche un giorno che incrocia un ulteriore passo di ripartenza per il paese speriamo che sia davvero un 2 giugno che possa essere di buono auspicio per il futuro del nostro paese 2 giugno di rinascita davvero in questa fase di ripresa dalla pandemia la vaccinazione sta funzionando stiamo tornando potuti alla normalità convinti che non si tornerà indietro quindi un grande 2 giugno oggi si riparte il sentimento è lo stesso la situazione è molto è difficile almeno come allora però la sfida vera è quella di riuscire a ripensare a questo paese adesso abbiamo questo dovere in questo 2 giugno ora il bollettino due nuovi positivi al virus e altre nove persone dichiarate clinicamente guarite dal dipartimento di sanità pubblica e il bollettino dei dati di ferrare della provincia stesse riferite alla giornata del primo giugno che non registra nessun nuovo decesso i due nuovi positivi sono stati individuati con 122 tamponi refertati nessun ricovero e calano anche i ricoverati in terapia intensiva campagna vaccinale continua naturalmente anche a ferrare primo giugno a ferrare sono state somministrate 3.130 dosi sul totale di 236.312 in totale sono 86.664 i ferraresi che hanno completato il ciclo vaccinale quindi sono immunizzati e intanto sono stati prenotati nel giro di poche ore i 1200 posti resi disponibili per il doppio open day vaccinale organizzato a ferrara per sabato 5 domenica 6 giugno per la somministrazione di vaccini astrazeneca si tratta di 600 somministrazioni per ognuna delle due giornate nel lab di ferrara che per l'occasione resterà aperto sino a mezzanotte ora prima di chiudere ci spostiamo a goro perché è stato riqualificato il faro che è diventato una struttura ricettiva grazie ad un bando di alcuni anni fa dell'agenzia del demanio del ministero della difesa una nuova destinazione turistica per l'edificio marittimo che è stato inaugurato alcuni giorni fa il faro di goro è diventato un albergo con ristorante sull'isola dell'amore la struttura ricettiva è stata inaugurata lo scorso 29 maggio dopo oltre cinque anni di lavori rallentati anche dalla pandemia e dopo il parere favorevole di 19 enti ed ha così riportato fasto alla storica torre che negli ultimi anni versava in stato di abbandono i gestori giampiero rubi ed eric scabbia si sono giudicati il bando statale per la ristrutturazione e gestione della struttura di proprietà dell'agenzia del demanio che nel 2016 nell'ambito del progetto valore paese aveva posto a bando una serie di immobili insieme con il ministero della difesa per la loro destinazione in senso turistico il bando ha permesso così un'entrata sotto forma di canoni nelle casse statali per immobili che erano in forte stato di abbandono concedendo una opportunità per nuove iniziative imprenditoriali sul versante della promozione turistica i due imprenditori che avrebbero investito oltre un milione di euro per la struttura alberghiera cominciano l'attività in concomitanza con l'allentamento delle restrizioni anti covid 19 un segnale di ripresa forte sia per l'economia del territorio ma anche per dare la possibilità a tanti appassionati di turismo slow di scoprire o riscoprire uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del delta del po in confine tra emilia romagna e veneto l'isola dell'amore che nel 2007 è stata indicata da lega ambiente come una delle 13 migliore spiagge italiane formata da una lingua di sabbia nella quale si formano delle dune che si muovono grazie alle maree al vento l'isola dell'amore è un habitat ricco di biodiversità oltre ai canetti sulle dune crescono alcune vegetazioni tipiche come il calichieto e l'agripireto mentre la beccaccia di mare il fraticello e la rondine di mare trovano in quest'oasi naturale un perfetto habitat per edificare. Allora chiudiamo qua il nostro tv giornale per gli aggiornamenti il sito la pagina facebook e il nostro canale youtube grazie di essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti